Un saluto a tutti i videotetti d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Donzelli dal titolo La nudità di Beatrice. Dante, Giotto, Ambrosio Lorenzetti e l'iconografia della carità di Donato Pirovano, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola. Prego professore, a lei. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e grazie soprattutto per questa occasione di parlare di questo mio nuovo libro che esce in libreria proprio in questi giorni. Il titolo è anche accattivante, La nudità di Beatrice. Come dirò poi c'è un punto in un sogno di Dante in cui Beatrice si vede nuda, sebbene coperta da un velo trasparente. L'obiettivo di questo mio saggio è quello di mettere in rapporto Dante con grandi artisti del suo tempo a partire soprattutto da Giotto e l'ipotesi che avanzo nel mio lavoro è quella di considerare un sonetto della vita nuova come possibile suggestione per la nuova iconografia della carità che si sviluppa all'inizio del Trecento proprio con Giotto, di quale sonetto parliamo. Parliamo del primo testo della vita nuova, a ciascun'alma presa e gentilcore. Allora cerchiamo di contestualizzare il testo. Dante aveva scritto, ci dice lui nella prosa, questo sonetto enigma all'età di 18 anni dopo avere incontrato per la seconda volta Beatrice e dopo aver ricevuto il saluto della donna che lui chiama la donna che lui chiama. Quindi se è vero quello che Dante racconta, questo testo dovrebbe essere stato scritto intorno al 1283, quindi incrociando i dati chiaramente con la biografia conosciuta di Dante che è nato nel 1265. Allora il testo probabilmente non è il primo che ha scritto Dante perché è un testo troppo finemente costruito anche rispetto ad altri della sua produzione per considerarlo il primo, ma accettiamo la ricostruzione dell'autore. Che cosa ci dice questo sonetto? Dante ci dice che mentre dormiva improvvisamente gli è apparso amore. Amore tiene nelle braccia una donna e in una mano ha il cuore del poeta. Amore che nutre la donna con il cuore del poeta e poi improvvisamente se ne va e il sogno svanisce. Dunque un enigma che i destinatari del testo devono cercare di interpretare. D'altro canto l'interpretazione dei sogni era un tema di moda anche ai tempi di Dante, ma è un testo davvero difficile da capire e infatti poi quando Dante lo inserisce nella vita nuova dice che nessuno l'aveva compreso, nemmeno Guido Cavalcanti che aveva risposto a Dante con una sua interpretazione. Quando Dante però inserisce il testo nella vita nuova e considerando che l'opera è stata scritta dopo la morte di Beatrice, quindi agli inizi anni 90 sono passati almeno dieci anni da quando quel testo circolava, Dante lo reinterpreta. Perché lo reinterpreta? Perché aggiunge una prosa che orienta il significato del testo. Allora innanzitutto il primo particolare importante è che quella donna non identificabile nel sonetto che circolava singolarmente e che poteva essere anche un'altra donna, non è detto che sia Beatrice. Qui diventa veramente Beatrice perché, Dante lo dice chiaramente nella prosa, è la donna della salute, cioè la donna che l'aveva salutato nel pomeriggio precedente al sogno. L'altro particolare importante è che nella prosa Dante ci dice che Amore tiene in braccio Beatrice nuda velata, diciamo così, da un drappo. Quindi se Dante riesce a vedere la nudità dell'amata significa che questo drappo era di seta più che di altri materiali tessili. Quindi abbiamo una nuova figura e la prosa aggiunge particolari che erano assenti e che non si potevano percepire dal testo in poesia. Poi c'è un altro particolare importante che cambia rispetto alla prima circolazione. Cioè qui Amore va verso l'alto, mentre nel testo iniziale si dice che Amore se ne va, qui Amore con in braccio appunto Beatrice nuda avvolta in questa sorta di drappo, se ne va verso l'alto. E quindi abbiamo davvero una nuova ricostruzione, una reinterpretazione di questo testo. Poi c'è un particolare che è presente in entrambe le versioni, ma che direi è importante, che è quello del cuore mangiato. Allora abbiamo detto che Amore tiene in mano il cuore ardente del poeta e con quello nutre la donna. Nel Medioevo il tema del cuore mangiato è un tema particolarmente diffuso, ma Dante qui si distacca dalla tradizione principale. La tradizione principale è quella che riprende alcuni elementi del mito antico per cui un marito tradito dà da mangiare alla donna il cuore dell'amante cucinato. E qui però la situazione è completamente diversa. Questo cuore del poeta non è cucinato, non c'è il triangolo amoroso, come per esempio nella novella del Boccaccio in cui è presente il tema del cuore mangiato, e poi soprattutto il cuore di Dante arde, ma non si consume. Quindi questo particolare potrebbe essere interpretato in modo diverso, cioè come una sorta di offerta totale della vita di Dante a Beatrice. D'altra parte per i medievali il cuore è l'organo della vita, perché gli spiriti vitali, ce lo dice Dante stesso, stanno nel cuore. Allora, come abbiamo capito, questo testo è un testo di grande visibilità. Abbiamo una donna nuda in braccio, in braccio ad amore, abbiamo la figura di amore come una figura che Dante definisce tra l'altro paurosa, abbiamo un movimento, abbiamo un cuore che arde e che viene dato in pasto alla donna. Perché Dante mette questo testo al primo posto nella vita nuova? Io l'ho detto prima, lo ripeto, probabilmente non è il primo testo che lui ha scritto. Lo mette, a mio parere, perché questa è una sorta di mistagogia. Cioè questo è il primo testo di un rito iniziatico. E qual è questo rito iniziatico? È la scoperta appunto del vero amore che rappresenta Beatrice e la scoperta e l'ingresso di Dante in questa vita nuova. Qual è questo vero amore che rappresenta Beatrice? Il vero amore che rappresenta Beatrice è la caritas, cioè quell'amore disinteressato che parte dal cielo e al cielo ritorna. E quindi la vita nuova, se la interpretiamo come una sorta di rito di iniziazione, è l'iniziazione, la scoperta di questo nuovo amore che è appunto la caritas. Ora, la caritas, o meglio la carità se vogliamo, la virtù teologale, nel 200 era rappresentata in arte in modo abbastanza standard. Cioè veniva rappresentata come una donna che tiene in mano una cornucopia. In alto a questa cornucopia c'è una fiamma e il significato più evidente è appunto la fiamma dell'amore che questa donna porta. In altri casi la carità viene rappresentata come una sorta di donna che allatta dei bambini. Chi modifica l'iconografia della carità allo stato attuale delle conoscenze, ovviamente, è Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Cappella degli Scrovegni è stata affrescata tra il 1303 e il 1305, quindi circa dieci anni dopo la vita nuova. Io ritengo, tra l'altro, e lo dico anche nel libro, che Dante ha visitato la Cappella degli Scrovegni perché poi ci sono degli indubbi riferimenti alla Divina Commedia, che viene scritta dopo chiaramente. Allora, che cosa troviamo nella carità di Giotto agli Scrovegni? è una donna che alza un braccio verso Cristo con un cuore e, tra l'altro, Giotto ha voluto anche dipingere l'aorta e si vede proprio, si vedono i due frammenti, i due moncherini di aorta, proprio a significare che l'organo è stato staccato dal corpo. Nell'altra mano, la carità regge un cesto di fiori e di frutti. Ovviamente il cuore sarebbe l'amor Dei, l'amore di Dio, e il cesto di fiori e di frutti sarebbe l'amore del prossimo, che sono i due aspetti principali della carità. Quindi troviamo il cuore staccato che viene offerto a Dio. Questo particolare del cuore staccato diventa ardente, ovviamente non poteva essere ardente nella carità degli Scrovegni perché è un monocromo, diventa ardente in successive rappresentazioni del tema di Giotto. Giotto, dagli Scrovegni in poi, in altre rappresentazioni della carità, usa sempre lo stesso particolare del cuore. Così i suoi allievi, o comunque i suoi collaboratori. troviamo questo particolare anche ad Assisi, nelle vele di Assisi. Lo troviamo anche in Taddeogaddi a Santa Croce. Quindi Giotto ha di fatto cambiato l'iconografia della carità rispetto ai precedenti. C'è poi un artista che è il meno noto, infatti non l'ho neanche indicato nel sottotitolo, che è Giovanni di Balduccio, è uno scultore pisano, allievo della grande scuola pisana, che introduce un particolare davvero significativo. Nelle sue statue, è una formella della vecchia chiesa di Orsanmichele, ma poi anche a Milano, in Sant'Eustorgio, si può vedere a Pavia, nel Cenotafio di Sant'Agostino, quindi monumenti di assoluto rilievo. La carità viene rappresentata come una donna che allatta. E qui c'è la ripresa, come dicevo prima, di un motivo tradizionale. Ma allatta che cosa? Fuoco. Se noi guardiamo soprattutto l'immagine della carità nella formella di Orsanmichele, che adesso sta in un museo di New York, vediamo che al posto del seno c'è una fiamma. Quindi i bambini, i due bambini, sono allattati non tanto con il latte, ma con il fuoco. E quindi c'è, a mio parere, un riferimento ancora a quel particolare igneo, no, che si trovava nel sonetto di Dante. Il punto di arrivo, però, a mio parere, è Ambrogio Lorenzetti. Ambrogio Lorenzetti, che è un artista sui generis. Non è detto che gli altri artisti fossero degli intellettuali. Probabilmente Giotto non lo era. Giotto era un artigiano del mestiere, era un genio, ma probabilmente non era un intellettuale. Un intellettuale, invece, è Ambrogio Lorenzetti, e le testimonianze ce lo rivelano. Sia Ghiberti, sia Vasari, parlano di lui come uomo di lettere, più che artigiano del mestiere. Allora, in Ambrogio Lorenzetti troviamo non soltanto il particolare che ha introdotto Giotto, della carità con il cuore ardente, ma troviamo nei suoi lavori, per esempio, anche nella famosa Sala dei Nove del Palazzo Comunale di Siena, là dove c'è l'allegoria del buon governo, eccetera. Troviamo la carità velata, ed è un velo talmente sottile che si intravedono le nudità, cioè si intravedono davvero anche i seni, i capezzoli di questa donna. Allora, a conclusione di questo percorso, noi troviamo nei grandi artisti dell'inizio del Trecento, abbiamo detto Giotto e tutta la sua scuola, Giovanni Di Balduccio e Ambrogio Lorenzetti, dei particolari che si trovano tutti in quel primo sonetto della vita nuova. E allora la mia ipotesi è ma Dante, con quel sonetto lì, di un libro che ha avuto successo nel corso del Trecento, ovviamente non il successo della Divina Commedia, ma ha avuto successo, è stato Dante a suggerire questa possibile nuova figura della carità, questi nuovi particolari per rappresentare la carità. ovviamente è indimostrabile perché i rapporti tra pittura e poesia sono delle suggestioni, cioè non abbiamo delle certezze come per esempio rapporti tra i testi scritti che si spiegano con le citazioni, oppure nell'altro ambito, citazioni in ambito artistico. Qui il passaggio da poesia a pittura, scultura è ovviamente difficile da dimostrare, però è una suggestione, è un'ipotesi che io porto avanti in questo mio saggio e che sottopongo ai lettori e alle lettrici. Professore, è davvero suggestiva questa ipotesi, no? È suggestiva anche per i protagonisti di questa vicenda, il più grande poeta italiano e alcune delle più grandi figure della pittura italiana in parte coeve. ha detto bene, anzi, io credo che agli inizi dell'ultimo decennio del secolo tredicesimo, cioè dopo il 1290, Dante e Giotto stiano rivoluzionando la letteratura e la pittura. Dante con la vita nuova. Nessuno aveva mai scritto un libro di poesie, cioè le poesie circolavano in antologie singole, nessuno aveva mai scritto un libro, un prosimetro come quello che fa Dante e la vita nuova poi è la base della letteratura d'amore successiva, cioè come immaginare Petrarca senza la vita nuova. Laura muore perché era morta Beatrice e così tutto dal petrarchismo arriviamo anche ai giorni nostri. Negli stessi anni, lo dico nell'introduzione in cui Dante scrive la vita nuova, a Firenze Giotto dipinge il crocifisso di Santa Maria Novecco. che è una geniale reinterpretazione del motivo del Cristo. A differenza della iconografia precedente, per esempio in grande Cimabue, Giotto dà al suo Cristo una posa più naturalistica, cioè non delle braccia perpendicolari, diremmo alla Yurikeki, perdonatemi la metafora, cioè come se il Cristo riuscisse a stare perfettamente in equilibrio sugli anelli, ma braccia in diagonale perché il peso del corpo trascina il Cristo verso il basso. Quindi Giotto introduce questo naturalismo nell'arte. Questa è una rivoluzione e Dante conosce questa rivoluzione. La conosce perché quando poi nel Purgatorio parlerà della pittura dice che Giotto ha preso il grido quindi ha sostituito Cimabue così come questo non nominato che è sicuramente lui ha sostituito gli altri due guidi cioè il Quinizelli e il Cavalcanti. Quindi Dante ha capito che in quegli anni lì e siamo lo ripeto alla fine del secolo nei primi anni degli anni 90 c'è una rivoluzione sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista poetico. Sono temi davvero affascinanti e intriganti e io credo che la cosa migliore sia correre ad acquistare il libro. Grazie. A questo punto è mio dovere ricordarne il titolo così possono andare in libreria e acquistarlo. Il titolo è L'andità di Beatrice Dante Giotto Ambrogio Lorenzetti e l'iconografia della carità di Donato Pirovano appena pubblicato da Donzelli. Non fatevelo scappare e sarà una lettura davvero affascinante e coinvolgente. Io la ringrazio tantissimo per questa presentazione a tutti i nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troveranno tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in abbondanza. Grazie ancora professore. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti i nostri utenti a tutti i nostri utenti